Sono partiti ufficialmente stamattina i saldi estivi che in Sicilia si concluderanno il 15 settembre. Nell'isola la corsa agli acquisti scontati è scattata in anticipo rispetto ad altre regioni d'Italia, dove ad eccezione di Campania e Basilicata si dovrà attendere fino a sabato 6 luglio. Secondo i dati della Feder Consumatori Palermo, una famiglia su due approfitterà dei saldi per acquistare a prezzi scontati. Si tratta di circa 246.350 famiglie che spenderanno mediamente 122 euro. Il giro complessivo di affari dovrebbe attestarsi a circa 30,05 milioni di euro. Le associazioni dei consumatori forniscono il consueto vademecum per chi acquista a saldo, regole di base per assicurarsi un buon acquisto senza incorrere in truffe. Innanzitutto conservate sempre lo scontrino. Non è vero infatti che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso. Avete due mesi di tempo, non 7-8 giorni, per denunciare il difetto del capo e per ottenere la sua sostituzione o riparazione. Se il cambio non è possibile, ad esempio perché manca la vostra taglia, avete diritto alla restituzione dei soldi, non ad un buono, o se preferite ad una riduzione del prezzo. Le vendite devono essere realmente di fine stagione. La merce messa in saldo deve essere l'avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino. Non fermatevi mai al primo negozio, ma confrontate i prezzi di più esercizi. Eviterete di mangiarvi le mani. A volte basta un giro in più per evitare l'acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. Cercate comunque di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in un negozio. In questo modo sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento che in realtà non vi servono. Diffidate sempre comunque degli sconti esagerati. Quelli superiori al 50% infatti spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati. Per quanto concerne la prova non c'è l'obbligo, è rimessa la discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non vi vogliono far provare i capi di abbigliamento o che per farveli provare vi chiedono un anticipo. E buono shopping a tutti!